A scanso di malintesi due premesse, più che schemi precisi tra cui scegliere, le tre opzioni proposte da Renzi sono modelli su cui lavorare e inoltre che nel mazzo non ce n'è nemmeno una che possa mettere d'accordo tutti i partiti, se perfino Berlusconi, al momento il più disponibile sul come, ha ribadito come necessario il quando in contemporanea, dice lui con le europee a maggio. Come detto, tre sono i modelli, tutti e tre orientati, così come sempre richiesto da Renzi a mettere bene in chiaro vincitori e vinti. Vediamo dunque in linea di massima cosa prevedono i tre modelli elettorali validi solo per la Camera, visto che il Senato, nella proposta di Renzi, non sarebbe più elettivo ma formato solo da sindaci e presidenti di regioni. Quello cosiddetto spagnolo è di fatto un proporzionale puro, organizzato su collegi di media grandezza che garantirebbe però un chiaro bipolarismo, penalizzando i piccoli partiti. Appoggiato per questo da almeno una parte di Forza Italia e dallo stesso Movimento 5 Stelle che a suo tempo lo indicò tra i suoi preferiti, visto come il fumo negli occhi da partiti come il nuovo centrodestra di Alfano. E poi il doppio turno sindaco d'Italia, dove al secondo turno parteciperebbero solo le due coalizioni più votate. Chi vince prende il 60% dei seggi, il restante 40% viene diviso proporzionalmente tra i perdenti. Una formula che però potrebbe comportare la necessità di modificare la Costituzione, formalizzando l'elezione diretta del Premier. È il modello al quale ha già risposto sì Alfano per il nuovo centrodestra. Infine il Mattarellum, con il suo 75% di seggi assegnati con maggioritario e il restante 25% diviso tra premio di maggioranza, 15%, e diritto di tribuna per i partiti minori, 10%. Ma il Movimento 5 Stelle è pronto a riadottarlo, anche così com'era, con il 25% di quota proporzionale, considerandolo dopo la fine del Porcellum, decisa dalla consulta, l'ultimo sistema legittimo. Ed è proprio il Neo Mattarellum che al momento appare come il punto d'incontro più probabile, almeno come voti. Su di esso potrebbero infatti convergere i tre partiti maggiori, PD, Forza Italia, 5 Stelle, lasciando aperta la sola questione del premio di maggioranza, che comunque non sarebbe una pura formalità, visto e considerato oltretutto che un robusto premio di maggioranza finirebbe per farla somigliare al Porcellum, con la spada di Damocle, costituita dalle motivazioni della consulta in arrivo a metà gennaio, che potrebbero bocciarne una quota esagerata.